Non so cosa faccio parire Novisor, ma se giochi sulla mappa Skeld è probabile che lui ti tenga d'occhio seguendoti, come se ti prendesse e ti renderebbe nuovo Novisor, gettandoti su di te la maledizione. Beh, insomma, non è che abbia tanta paura di lui, neanche esiste. Già, è una leggenda. Ragazzi, potete giocare al vecchio giveaway della Game Toons, per favore, ci tengo molto queste magliette, anzi, un formaggio, tieni. No, 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 ti prego lasciami in pace. No, 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 è solo indietro. Oh, era solo un sogno. Wow, di certo non riuscirò più a dormire dopo questo. Oh, veterano? Come va? Che ci facciamo qui? Aspetta, ma che ci faccio io qui? Aspetta, un attimo, stiamo giocando in Among Us come server. E ho l'ora di fare la task. Non trovi che è strano il fatto che ci siamo svegliati già nel gioco? Cosa? Sono passata 18 ore giocando al gioco. Per come la vedo io, il convegno amare, guarda. Ma vediamo, che ci lo dica. Quella è l'ultima cosa che ricordo. Ricordo di uno che stava, uno che stava, e sei tu, e... Io almeno due secondi fa. Oh, giusto, giusto, scusa, scusa, la mia merda mi prende colpi. Botte in testa, ne ho prese di botte, devo ammettere di isolarmi. Adesso sono tipo un pesce rosso parlante, da vedere fiste infantili e barbara. Perché incontri le fiste infantili? È perché costano la metà rispetto ai normali funzionari. Funziona un po' come i Happy Meal. Ma che cazzo. È come il gioco per Diana Veterano. Ascolta, c'è qualcosa in linguata. Ma non sento come se si stesse osservando. Intendi quelle foto là? Con ogni prodotto... No, sono solo di Wendy, lo dici tu. Cioè, ragazzi, oh! Oh, sono... Guardi un'altra novellina. Come ti va? Sono veterano. Un momento. Ehi, Ira. Scusa, ma non è il momento della presentazione. Dice bene? Sì, ma che bene? Avete visto il mandasma? Un attimo, ecco. No, vai, sor. Ora ci stanno volendo la caccia. Ora ricordi, vedranno. Intendi se ricordo quella inserirribile? Non direi proprio. Dimentichi. Non ricordo. Ma comunque, no, vai, sor. Non ricordo. Dovremmo stare sicuro. Solo gli altri ci stanno volendo la caccia. Beh, è buono sapersi. Aspetta. Perché è veramente quella del genere. No, vai, se non esiste. Sì. Che c'è? No! No, vai. Oddio, va a scappare. Non posso muovermi, però. Oddio. È tornata la luce. È finita. Oddio. La pochino di te. Ragazzi, ascoltatevi. Sono chi sono gli pastori. È meglio che non sia una cretina, signor uovo. No, che non sia una cretina. Non è una cretina. E questo è il dono di sofferenza. Forza, forza. Arriva il tuo, signor uovo. Ho trovato il corpo della povera e adorabile Ria. Nel corridoio su dove il giocatore e il veterano proprio nel centro del corpo. Se sono loro gli assassini. È tutto falso, ragazzi. Mi dovete credere. C'è un pericolo. No, vai, sore. È qui, in giro. È in veterano. Siamo innocenti. Per te, giocatore. Io confesso. Ho ucciso Ria. Io sono l'imbossore. Non lo bevo. Veterano, ma che cavolo fai? Preparisco per precipitare nel vuoto e per diventare sei quasi Novisor. Allora, ero davvero innocente. Perché non ce l'ha detto mio giocatore? Ve l'ho detto. Il vero nemico è Novisor. Il mio uscita dal gioco sia troppo tardi. Ma quello che ho segnato non sarà affatto facile. Dobbiamo battere il suo gioco. Che cosa fare? Se combiniamo tutte le tasche, chiederemo il gioco generato, logicamente. Uh, signor Formaggio alla giornata, ragazzi. Ma una cosa, signor, non è una cosa. Mutà! Ecco qua. Quando finirà questo incubo... Il camminati vecchio. Puoi farcela a tutti quando è uno sui te. Ah, un attimo. Ho fatto... Ma che diavolo... Ok, inquietante. No, vuoi solo di vedere come noi, no? Oh, zio. No, non è possibile! No! No! Eccola questa tanda No, no, c'è quel ciclo Gli gatti Sono generalizzato Cosa era? Ma che cosa stai facendo? Ti arrivavo Io Ti arrivavo Ti arrivavo Tu, salvevi Ti arrivavo Perché mi stai prendendo paura No, vai, no, vai Diventerete come noi No, vai, no, vai Ok Posso uscirne Soltanto la tasca Devo solo copertare Le tasca un po' Un momento Non mi spugnano le tasche Non è possibile No, vai Diventerete No, non è possibile Non è vero Diventerete come noi Ok Nel rapanico Non è quello che sembra Non lo è No, vai, 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 no, vai No!